ok mi sto per mettere a montare quest'odio queste sono solo le viti e i bulloncini fascette pezzo che non so cos'è occhialini cavi scheda incisore vero e proprio e tanti cavetti ovviamente ho dovuto stampare il manuale altrimenti è proprio impossibile perché le viti sono troppe il manuale di istruzioni stava in un mini cd quando l'ho visto mi sono praticamente commosso mini cd erano anni che non li vedevo un mini cd no no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto devo fare per forza questa minchiata. E' bellissimo come l'olio. Ora lo rompo.